La scelta di pubblicare sul proprio sito internet le liste d'attesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali è voluta fortemente dalla direzione aziendale per consentire a tutti i cittadini e fra loro gli amministratori politici, le associazioni di volontariato e tutela, gli stessi professionisti del settore, di verificare con una trasparenza in tempo reale la situazione nelle singole specialità. Un primo tassello ribadisce l'azienda di un percorso di miglioramento dell'accessibilità, le cui prossime tappe saranno la presentazione dei tempi d'attesa del pronto soccorso e delle attività di ricovero. Le liste di attesa oggetto del monitoraggio regionale, aggiunge l'ASL, sono per oltre il 90% dei casi in linea con i tempi previsti e anche le prestazioni che sforano rientrano comunque nell'ambito della media regionale. Per eliminare queste poche criticità, l'azienda sta comunque attuando un monitoraggio quotidiano grazie ad una tax force che è stata istituita appunto per intervenire in tempo reale sulle varie problematiche. L'ASL fa anche rilevare che per alcuni esami che fanno registrare un'attesa più lunga è utilizzata la figura fondamentale del radiologo clinico, che rappresenta una risorsa in più per la cittadinanza sia a Lucca che in Valle del Serchio. Il medico di medicina generale può contattare direttamente lo specialista della branca di riferimento e concordare con lui la risposta più adeguata ad un quesito clinico e diagnostico. Nel corso del 2011 sono stati oltre 2.800 gli esami effettuati con questa modalità che permette di garantire tempo inferiore ai 30 giorni e non rientra nelle prestazioni di cui viene riportata l'attesa del sito.